I clamori della vertenza Novem di Bagnatica hanno raggiunto la segreteria nazionale della filca CISL che ha avviato un'azione coordinata su scala generale. Una scelta motivata dal fatto che l'azienda che produce interni per auto di lusso non ha avviato alcun confronto con i sindacati nazionali ma soltanto con i locali, ha detto il segretario della filca Paolo Acciai. La filca CISL ha dunque allertato tutte le altre realtà sindacali presenti negli altri stabilimenti nazionali ed internazionali al fine di mettere in pratica un coordinamento di più ampio respiro. Acciai ha anche informato di aver allertato la CAE, il Comitato Aziendale Europeo. L'auspicio è che il sindacato internazionale svolga un'azione più incisiva di quella realizzata finora. A rischio mobilità per lo stabilimento di Bagnatica ci sono 117 posti di lavoro. L'azienda, che fa parte del gruppo tedesco Bregal Capital con 4.000 dipendenti, fra aprile 2011 e marzo 2012 dovrebbe registrare un fatturato di 31 milioni di euro. Intanto oggi, proprio sulla Novemi, il parlamentare bergamasco del PD Antonio Misiani ha presentato un'interrogazione alla Camera con la quale chiede chiarezza sul futuro dell'occupazione per centinaia di addetti. Il politico ha così chiesto l'intervento dei ministri del lavoro e dello sviluppo economico.